buongiorno oggi siamo a mignate a vedere un capannone con uffici e parte a magazzino laboratorio più un'area esterna che gira intorno su tre lati andiamo a vederlo iniziamo a vederlo eccoci qua siamo arrivati alla fine di questo video spero vi sia piaciuto comprenderò le ultime riprese con una visione insieme dell'area esterna affinché possiate vedere anche ciò che non è senz'altro che è senz'altro da analizzare quando si fa la scelta di un immobile soprattutto per tutto ciò che riguarda il carico e lo scarico e anche l'aspetto estetico dell'immobile perché ci sono aziende che giustamente richiedono immobili di rappresentanza al prossimo video grazie grazie a tutti